Mi chiamo Giuseppe Gentili, sono onologo e ho potuto frequentare il Master di Andologia Epilurgica all'Università di Roma alla Sabienza. La durata è stata di un anno dove ho potuto osservare le varie tecniche di posizionamento di protesi idrauliche e peniere, quindi con tecnica prima scrotale, leggermente più invasiva e invece con tecnica meno invasiva, quindi con accesso sovra pubblico. Avendo potuto poi eseguire il post-operatorio dei vari pazienti, è risultato evidente che la tecnica meno invasiva è sicuramente più veloce e migliore per quanto riguarda il post-operatorio e abbassa fortemente le possibilità di infezioni della protesi stessa. Ho visto con la pratica clinica che è sicuramente molto più efficace la tecnica meno invasiva, quindi con l'accesso sovra pubblico e quindi ho sbricciato completamente la mia tecnica essendo assolutamente superiore. Il paziente accetta molto più volentieri questo tipo di approccio perché già dopo una settimana se ha il taglio minimo invasivo, non ha dolore, la possibilità di infezione è molto più bassa e già dopo una settimana può attivare la protesi. Grazie. Grazie.